Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24 e i titoli del nostro telegiornale. Sanità in Calabria e scontro tra Governo centrale e Regione. Consegnati i lavori della rotatoria di Giovino a Catanzaro. Presentato a Rende il protocollo a Batemarco tra Regione Calabria e Sorical. Arriva anche nella città di Cosenza la carovana della prevenzione. Il genio di Leonardo da Vinci raccontato agli studenti di Vibo Valencia. E scontro dunque sul comparto sanità fra Governo e Regione. Intanto i commissari vogliono vederci chiaro sui conti delle aziende sanitarie ed ospedaliere. La sanità come emergenza ma il comparto diventa anche terreno di scontro fra la Regione e il Governo. Da un lato la riunione che il subcommissario per l'attuazione del piano di rientro della sanità Thomas Schaell ha convocato con il Presidente dei Collegi dei Revisori dei Conti delle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi. Dall'altra le parole del Ministro della Salute Giulia Grillo e la risposta del delegato del Presidente della Regione Calabria per la sanità Franco Pacenza. Schaell vuole fare il punto sulla situazione economica delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere, alcune delle quali sarebbero decisamente critiche. Il Ministro Grillo invece ha parlato di situazione nello stadio terminale di un decreto Calabria che è l'unica Regione che ha un disavanzo notevole e ha peggiorato i livelli essenziali di assistenza. Pronta la risposta di Pacenza che ha dichiarato di annunci incomprensibili da parte del Governo ma che sarebbe grave se ci dovesse interferire con le competenze della Regione. E' stato confermato dalla sezione Corte dei Conti per la Calabria il sequestro di beni per oltre 1 milione e 500 mila euro a carico di Luca Mannarino, ex Presidente di Fincalabra Spa, ente in house della Regione Calabria. Il provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza giunge al termine dell'iter che a dicembre aveva portato alla condanna dell'ex Presidente per aver distratto fondi comunitari ad impiego vincolato utilizzandoli per l'acquisto di strumenti finanziari ad altissimo rischio e provocando all'atto del disinvestimento un rilevante danno alle casse pubbliche. Le somme erano state distratte da finanziamenti comunitari che Fincalabra aveva l'obbligo di investire in strumenti finanziari. La decisione rappresenta uno dei primi casi di applicazione del sequestro in pendenza dei termini per la presentazione dell'appello. Cambiamo argomento, sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della rotatoria del quartiere Giovino a Catanzaro, un'importante arteria come ha sottolineato il primo cittadino Sergio Abramo. I lavori di costruzione della rotatoria lungo la statale 106 Ionica all'altezza dello svincolo tra Giovino e Viale e Crotone a Catanzaro sono cominciati. Un intervento importante ed atteso, una rotatoria destinata a gestire un'importante mole di traffico proprio all'ingresso di Catanzaro Lido. In occasione della consegna dei lavori si è tenuta una conferenza nel corso della quale è stata illustrata l'importanza dell'opera in corso di realizzazione. Oggi vengono consegnati i lavori, è un'opera strategica per la città, anche se ridotta come importo, diciamo, come finanziamento, però erano delle opere strategiche perché purtroppo gli incidenti su questa strada ce ne sono stati veramente tantissimi nel corso degli anni. Quindi mette in sicurezza la strada, ma soprattutto questo lavoro di sinergia con l'ANAS ha dato i suoi frutti nella città di Catanzaro. Vedi Ponte Morandi, noi siamo partiti molto tempo prima che succedesse quel disastro a Genova, ma grazie alla disponibilità dell'ANAS con il quale stiamo lavorando veramente benissimo. La realizzazione di questo progetto è secondo me un segno importante di attenzione per Catanzaro, per questa parte della città di Catanzaro, ma è anche una risposta a delle esigenze di sicurezza che secondo me sono imprescindibili e importanti. Nasce da una positiva sinergia con il Comune. Io sono arrivato qui poco più di due anni fa e la prima cosa di cui mi hanno parlato è proprio l'esigenza di questa rotatoria per disciplinare un traffico sempre maggiore con dei pericoli che sono insiti proprio alla conformazione della strada in questo punto. Per fortuna siamo riusciti a lavorare bene con il Comune. Siamo arrivati a questo punto, io però sarò sereno e soddisfatto nel momento in cui vedrò l'opera completata. Ed è stato presentato a Rende nel Cosentino il protocollo a Batemarco tra la Regione Calabria e la Sorica e i comuni che vengono serviti dall'acquedotto. L'importante accordo verrà sottoscritto nei prossimi giorni. Protocollo a Batemarco. È l'accordo che verrà sottoscritto a breve tra la Regione Calabria, Sorica e i comuni che vengono serviti da questo acquedotto. L'importante accordo è stato presentato al Comune di Rende alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Roberto Musmanno e del responsabile della Sorica Luigi incarnato e permetterà di regolamentare la bollettazione e di intervenire sulla rete idrica. La programmazione è una programmazione che riguarda tutta la problematica idrica nella nostra provincia ma nella nostra regione. Assolutamente soddisfatto di questo incontro e devo ringraziare l'assessore Musmanno, l'ingegnere Pallaria e Sorical ovviamente con tutto quello che è il progetto di rilancio della problematica idrica. I punti cardini sono sostanzialmente due. Uno che abbiamo un problema sulle reti che come sappiamo tutti hanno dispersione paurosa e impressionante che non consentono ai cittadini avere acqua abbondante. L'altro aspetto fondamentale è la riscossione. Purtroppo tra noi, i comuni e i cittadini c'è una discrasia ormai storica. Noi mettiamo le fatture, i comuni non riescono a pagare perché a sua volta mettono le utenze, le bollettazioni con notevole ritardi e quindi con somme che a volte i cittadini non riescono a pagare. Quindi dobbiamo normalizzare questo rapporto della bollettazione che ci aiuta a trovare un rapporto con l'utente finale in maniera molto permoniosa. Abbiamo riunito tutti i sindaci che afferiscono al progetto Abbate Marco, sono 25, per poter illustrare le modalità operative di attuazione di un protocollo molto importante che consentirebbe ai comuni interessati di iniziare in versione prototipale quello che poi sarà previsto su tutto il territorio regionale a livello dell'autorità idrica calabrese, vale a dire la possibilità di pensare finalmente in maniera congiunta a un ciclo unico integrato per la gestione delle acque sia per quanto riguarda l'adduzione che sia e riguarda la distribuzione all'interno delle singole reti comunali. I tempi di realizzazione sono legati essenzialmente alla possibilità di siglare questo protocollo d'intesa tra i vari comuni e alla possibilità poi di avviare il processo con i successivi accordi di programma. Noi riteniamo che nel giro di un paio di mesi il progetto potrebbe essere decisamente già avviato in fase operativa. Cambiamo argomento, prosegue il programma di prevenzione dell'Associazione Comen Italia che porta in Calabria la carovana della prevenzione. La carovana della prevenzione arriva a Cosenza. A condurla è l'Associazione Comen Italia che prosegue nel suo programma nazionale di promozione della salute femminile. tre le unità mobili ad alta tecnologia che hanno percorso 20.000 chilometri in un anno offrendo assistenza a oltre 7.000 donne in 13 regioni diverse. L'associazione che punta decisamente sulla ricerca tutela il diritto alle cure di eccellenza per le donne con un tumore al seno e offre servizi per migliorare la qualità della vita. È un'associazione che è presente in Italia da 20 anni, quest'anno ricorre il ventennale, che si occupa di lotta e tumore al seno e in particolare di raccolta fondi per realizzare dei progetti che siano di supporto e di sostegno e di lotta contro i tumori al seno sotto varie sfaccettature. Supporta le associazioni con contributi che ogni anno sul territorio nazionale vengono devoluti ad altre associazioni o progetti creati proprio dall'associazione stessa. Uno di questi progetti è proprio la realizzazione, l'acquisto e l'organizzazione di tre unità mobili. Tre unità mobili che noi chiamiamo carovana sono attrezzate, uno per la mammografia, l'altro per visite ginecologiche e la terza per informazioni sugli stili di vita. La carovana ha attraversato l'Italia, una quindicina di regioni ed è approdata da ieri in Calabria. offre prestazioni di questo genere però a donne di fasce disagiate perché per decisa scelta abbiamo pensato di offrire questo invito alla prevenzione e a tecniche di prevenzione a donne che per motivi sociali, culturali e economici non riescono ad accedere a queste prestazioni. A Vibo Valencia, in occasione del Cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci, è stato raccontato la vita e le gesta del grande genio agli studenti. Tra la seconda metà del Quattrocento e i primi anni del Cinquecento, vive in Italia uno dei personaggi più misterici del sapere artistico e scientifico, un genio il cui nome impone ancora una continua ricerca per comprendere l'uomo matematico quanto un inventore. Parliamo di Leonardo da Vinci, di cui quest'anno ricadono i 500 anni della sua morte. I suoi studi, gli appunti tecnici, i disegni botanici e anatomici completano il profilo di un uomo capace di speziare in tutti i campi. Di questa mente assettata di conoscenza si è parlato al liceo Vito Capialbi di Vibo Valencia e grazie all'iniziativa promossa dai ragazzi del corso di scienze umane che ha coinvolto Pasquale Rettieri, critico d'arte di fama internazionale e curatore di mostre e rassegne dedicate alla ricerca artistica. A raccontare ai ragazzi un genio, come si fa? Ci sono sicuramente degli elementi teorici fondamentali che ci aiutano a definire la figura di un genio, come Leonardo da Vinci lo è stato, ma c'è bisogno attraverso una selezione di opere e del lavoro di questo artista riuscire a capire in che cosa consiste il suo essere rivoluzionario e quindi la capacità che ha avuto Leonardo da Vinci di incarnare il principio antropocentrico e rinascimentale dell'uomo che ha la necessità di superare il proprio limite. Proprio in un periodo come questo dove la globalizzazione non è solo territoriale, è anche dell'informazione, figure poliedriche come queste possono diventare un riferimento? Sicuramente lo devono essere, deve essere uno sprone per le nuove generazioni, questa necessità di conoscenza, questa avidità di approfondire gli argomenti, questa necessità di guardare all'infinito e non al piccolo orticello, piccolo microcosmo nel quale purtroppo spesso ci troviamo ad essere confinati e in quest'epoca di virtualismo imperante una figura come Leonardo da Vinci, al di là di quelle che sono le competenze specifiche e la conoscenza delle materie che lui ha affrontato, sono quelle figure che ci consentono di aprire la mente e gli orizzonti. E per questa prima edizione è tutto, io vi aspetto alle 19.30 per ulteriori aggiornamenti e come di consueto vi ricordo di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie e a più tardi.